Potente appare ragazzi, qua ho Maxi Loggi, oh my god, oggi sono da solo e sono qui felicissimo per due motivi Innanzitutto è finita la scuola, quindi sono strafelice ma proprio da dentro, da dentro sento la felicità che mi esce dalla gola addirittura E come seconda cosa, perché infatti non so se starete notando ma qualcosa dietro di me sta cambiando Perché infatti ho, o meglio stiamo, io e la mia famiglia, non è vero in realtà chiamiamo il bianchino Però nel senso di è in fase di progresso, la colorazione della mia stanza, infatti le tonalità sono cambiate Non c'è più quel azzurro soft e quel verdino, siamo passati all'eleganza più assoluta Quindi bianco e grigio però non è ancora terminato, quindi aspettate appunto di vedere nei corsi dei prossimi video un ulteriore cambiamento Comunque prima di iniziare vi volevo ricordare un paio di cose Come prima cosa vi volevo ricordare come sempre di passare un po' a dove Ditemelo voi da wowfifa.com se siete interessati a operare i crediti di FIFA E mi raccomando utilizzate il codice Axel con due come discount code E colgo l'occasione per dirvi che se avete un account screen pagare è velocissimo Della serie che voi prendete i vostri crediti, inserite delle informazioni Mettete il codice di sconto Axel con due, fate check out e mettete l'email e la password del vostro account screen E avete già i crediti che volevate, quindi cosa veramente tattica Come seconda cosa invece vi volevo ringraziare per tutto il supporto che mi state dando Stiamo arrivando a 95.000 iscritti prima di Natale ma non l'abbiamo raggiunto quindi ce la possiamo fare Detto questo oggi cosa sono qui a presentarvi? A presentarvi un pacco online che è stato richiestissimo Sono usciti questi pacchetti che sembrano qualcosa di fantastico Ma andiamo a leggere la loro descrizione Il più grande pacchetto disponibile con 30, sì 30 oggetti Includo i giocatori e non spavoli Almeno 26 oro di quei 18 orari Cioè detto così sembra che dentro ci sia Babbo Natale in persona Anche perché guardiamo un attimo questa breve descrizione I mega pacchetti sono disponibili L'ideale è per festeggiare Natale alla grande Tanto che vogliamo noi festeggiare Natale alla grande Andremo sicuramente a trovare qualcosa Perché infatti non è bello tirare fuori i bestegni Eppure in area natalizia Quindi primo pacchetto di oggi Sono 5, ah sì scusate per i miei capelli che sono agghiaccianti Ma non ho voglia di farli Primo pacchetto chiudo gli occhi Di Diabolo 3, 1, 2, 3 Chiellini, Gervinio, Gundogan, Hazard Il pattone ovviamente Troviamo un fratello ma non è Dan E nient'altro Oh mio dio Che schifo Proviamo ad andare ad aprire un pacchetto Cambiando ogni volta il cappello Quindi primo cappello Non pacchetto Chiudiamo gli occhi Al 3 li apriamo 1, 2, 3 Cavani Che vale siano a 2000 crediti credo Cadavo, oh mio dio No, 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 no Cavani, in cavani io credo In cavani io ci credo Dai No Che palle 6000 crediti Dio santo Vediamo Nuovo pacchetto Dai ora abbiamo ancora 2, 3 Dio santo Non posso non trovare niente anche qua Chiudiamo gli occhi Me lo sento fortunato Al 3 li li apro 1, 2, 3 No è andata peggio di prima Ma io non ho parole Cioè c'è gente che trova Cristiano Ronaldo Sif adesso su Youtube E io non ho ancora trovato uno Che vale più di 12.000 crediti In forma Dov'è l'altro cappello Vediamo Chicago Bulls Dai Oh Vi scongiuro Per l'ultimo pacchetto Ti prego No Ma non è possibile Ma stiamo scherziamo No Sono allergico ai giocatori buoni Non riesco a capire il motivo E' fisicamente impossibile Che uno apra così tanti pacchetti E non trovi mai nulla E ragazzi Dato che moltissime persone Come oggetto di sfortuna Diciamo che avevo appunto Chiesto di indicarmi Allo scorso video Hanno detto Che in poche parole Quello che portava sfortuna ero io Io farò così Adesso Primerò Aprirò il pacchetto Uscirò dalla stanza E rientrerò Non si ritornerà 5 minuti Quindi Vado ad aprirlo E io ve ne ho Addio E là Oh No no Sto parlando con te Ragazzi Sto entrando in casa Non guardo ancora Al tre Alzo Lo sguardo Uno Due Tre Oh my god Non ci voglio Credere No Dimmi che tu Vali Seicento Mila 600 Ma non Mila Ma no Abbiamo tre Pacchetti Gratis Che magari Ci vogliano Fare la sorpresina No Eh no Dai signore Gesù Ora guardiamo Dai ora guardo Ora guardo Sahin Sahin Ultimo pacchetto Ti prego La sardo Ti scongiuro Ti scongiuro Non è possibile Non trovo Nessuno È assurdo Mai Cioè Boh Come Ma no Ma no Ultimissimissimissimo Pacchetto Dai Non può sempre Andarci male Non può Sempre Andarci Male Chiudo gli occhi Chiudo gli occhi Uno Due No 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 Maria Io esco Ti scongiuro Ti scongiuro Ti scongiuro